quello che facciamo, cerchiamo di essere persone per bene, per bene, per bene, sai cosa vuol dire per bene? Che non si ruba più, se vai a Parma non si ruba più, se vai a Ragusa non si ruba più, se vai negli altri comuni dove ci siamo non si ruba più, e allora è già un passaggio o no? Vanno con la bicicletta, stanno i tre generali, dico no a Ponte Notar, sono sciagure, non si arrenderanno male, non è pure, non siamo un parmico, non siamo una casta, siamo cittadini punto e basta, ognuno vale puro, ognuno vale puro, ognuno vale puro, vale, vale puro, Buonasera, buonasera e bentornati dopo le vacanze, un saluto a tutti, a tutti quelli di Casorati e a quelli che ci seguono pochi, magari quando trasmettiamo in diretta perché è un orario un po' particolare e poi invece ci vanno a vedere dopo. Io direi questa sera di dare due o tre notizie, la prima è che stiamo lavorando assieme, tutto il gruppo, discuteremo delle emozioni, possiamo anticipare i contenuti delle emozioni che vogliamo portare in comune, che verranno però discusse da tutti prima, da tutti, approvate, dovranno essere approvate da tutti gli attivisti e da tutti, anche i cittadini che volessero partecipare. Le emozioni, una riguarda le bacheche, non le presenteremo tutte assieme, l'altra emozione riguarda il problema che vedremo nel filmato di stasera che è quello degli allagamenti periodici di Casorate, cercando di avere uno spirito positivo, non abbiamo la risposta, non siamo dei tecnici, chiediamo soltanto un approccio diverso, questa è la nostra proposta, assieme a delle proposte pratiche, ma sappiamo che non siamo dei tecnici e che crediamo che poi tutto sommato probabilmente il problema è portato a diverse cause, per cui dare un'unica risposta potrebbe essere una strada sbagliata come ha accaduto fino adesso. L'altra emozione è molto importante, perché chiediamo l'adesione camminando sull'acqua, di cui abbiamo già parlato diverse volte e ne parleremo ancora. Poi abbiamo già, ci aspettiamo l'interrogazione, la risposta all'interrogazione che è stata fatta dal nostro consigliere Luigi Amatulli, a nome suo, ma chiaramente tutto il gruppo che lo supporta, l'interrogazione era sul numero di case spitte esistenti a Casorate, perché purtroppo, lo ripetiamo, l'Entero spenderà 4 milioni per delle case popolari. Noi diremo abbastanza dettagliatamente, comunque per linee generali, come avremmo preferito, come avremmo speso noi 4 milioni e noi siamo convinti che con questi 4 milioni avrebbero potuto rimettere in moto l'economia locale. Bene, vi salutando tutti quanti ancora e spero che abbiate passato delle buone vacanze, chi via, chi qua, chi come me è andato qui a 80 chilometri come faccio da 11 anni e anche lì ho dei servizi per quanto riguarda il turismo locale, sapete che per noi è importantissimo ed è un futuro, anche se molti ridono, sarà quello, non c'è scampo, è uno dei servizi sia per quanto riguarda la musica, sia per quanto riguarda il, molto alla città di Pavia ci sono le termini salice che hanno bisogno di una ristrutturazione, di un rilancio serio. Ci sono problemi che sono dovuti proprio alla mal gestione politica, non è che, è la verità. Bene, io direi di partire con il filmato, partire con il filmato, speriamo che ricominci da capo, vediamo se no lo rilanciamo. Bene, il filmato riguarda, lo vedrete già dall'immagine dietro, l'allagamento diciamo che c'è un periodico, ci sono diverse opinioni, vediamo di metterci assieme senza divisioni, senza che nessuno abbia la bacchetta magica, la bella risposta, ma con la volontà di risolvere il problema e di non dimenticarlo quando poi non piove più, è importante. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.